Il Paradiso, Roberto Farnesi, grande colpo scena inaspettato che rilancerà il negozio. Roberto Farnesi annuncia un colpo di scena nel gran finale del Paradiso delle Signore Sette. In queste settimane sono in corso le riprese delle ultime puntate di questa settima stagione della soap opera pomeridiana in onda su Rai 1 e tra i volti di punta continuerà a esserci il commendatore Umberto Guarnieri. A stuzzicare la curiosità degli appassionati della soap opera è proprio l'attore. Chi sui social ha postato uno spoiler che non è passato affatto inosservato tra i fan. L'appuntamento con il Paradiso delle Signore Sette proseguirà fino ad aprile-maggio in prima visione assoluta su Rai 1. Ma intanto sono in corso le riprese delle ultime puntate della settima stagione. Il 30 gennaio ci sarà lo soppo delle riprese, così in questi giorni gli attori sono impegnati sul set con il gran finale di quest'anno. Le sorprese non mancheranno e una di queste avrà come protagonista il commendatore Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi. In queste ultime ore l'attore di Umberto ha condiviso sui social uno scatto dal set del Paradiso delle Signore. Annunciando ai fan quello che succederà nel corso delle puntate finali di questa stagione. Il commendatore Guarnieri garantisce un grande colpo di scena inaspettato che rilancerà l'intero Paradiso. Ha scritto Roberto Farnesi sui social. Un retroscena decisamente importante è quello svelato da Farnesi, che tuttavia ha preferito non sbilanciarsi oltre e non svelare ulteriori dettagli su questo colpo di scena che il pubblico avrà modo di vedere nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1. Cosa succederà a questo punto? Quale sarà il colpo di scena che vedrà protagonista Umberto Guarnieri? Non si esclude che, dopo essere stato estromesso dalla guida del magazzino milanese, il commendatore possa tornare nuovamente ad avere un ruolo di prestigio all'interno del negozio. Del resto le anticipazioni delle prossime puntate del Paradiso delle Signore 7 rivelano che Vittorio prenderà in considerazione l'idea di accettare una nuova proposta lavorativa presso una importante casa automobilistica. Di conseguenza Conti potrebbe uscire di scena dalla guida del magazzino e a quel punto potrebbe essere proprio Umberto Guarnieri a prendere in mano le redini del negozio insieme alla con Tessade Laide. Aimei, aimei, n'au avut habar, când è sus, când è sus, când è sus, când è sus, pot eu sa sar. Acum ca nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duc tot mai sus. Aimei, 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 n'au avut habar, când è sus, când è sus, când è sus, pot eu sa sar. Acum ca nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duc tot mai sus.